Intervento dei Vigili del Fuoco di Ivarolo Canavese e dei Carabinieri di Aglie, nel pomeriggio di sabato 28 dicembre, poco prima delle 15, in corso a indipendenza a Ivarolo. Un'orlot parcheggiato al fondo di uno spiazzo dietro al bar si è incendiata. Da lì stava passando la polizia stradale che si è subito fermata e dopo aver allertato i Vigili del Fuoco ha tentato di spegnere le fiamme con l'estintore. I volontari hanno terminato l'operazione di spegnimento e provveduto alla messa in sicurezza, accertamente in corso sulle cause. Grazie. 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 Grazie.